Federica Zanella, il professor Aimone Marsan ci ha allertato ancora una volta sul fatto che chi prende i nostri dati ruba la nostra anima in un certo senso. Allora Federica Zanella ha avuto un piglio di grande sensibilità nel corso di questi mesi proprio ad attirare l'attenzione sulla questione dei dati. Il 5G è una miniera di dati quindi sul 5G ci giochiamo anche su queste ancora di più una grande partita. Io vorrei sapere qual è il tuo punto di vista e che cos'è che intendi o che voi politici potete fare per dare un segno positivo così come sta emergendo. Ovviamente poi rispondo al discorso dei dati, la battaglia che ho fatto per l'entrata in Parlamento per il GDPR perché diciamo l'attenzione del precedente governo sulla declinazione con decreto legislativo del GDPR che ci ha messo due anni quindi ho dovuto io combattere e mi dicevano ma no una cosa di nicchia, ma come una cosa di nicchia? La privacy riguarda tutti noi però a prescindere da quello volevo fare velocemente due passi indietro anche perché due passi indietro nel senso che ho due argomenti trattati rispettivamente da altri ospiti e relatori però mi rendo conto che abbiamo poco tempo. Una cosa è appunto quello a cui faceva riferimento Mirella ovvero noi abbiamo messo a segno l'asta 6 miliardi e mezzo incidentalmente appunto ci sono delle frequenze che verranno liberate nel 2022 e c'è un po' di inquietudine in questo senso faceva riferimento a degli emendamenti che verranno presentati al senato però ecco non c'è la sicurezza che ci sia la liberazione di queste frequenze bisogna aiutare accompagnare le televisioni e quant'altro perché è come un po' se voi metteste dei soldi in un mutuo per una casa che non è liberata cioè ci sono realtà che hanno investito due miliardi due miliardi e mezzo eccetera eccetera che non hanno certezza della liberazione della frequenza quindi questo è un vulnus che va un attimo colmato. Secondariamente qua è stato appiamente dibattuto quindi non mi soffermo molto ma ovviamente l'accessibilità universale di questa tecnologia a 5G sarà un altro argomento importantissimo ed è chiaro che la rete unica è un tema che va trattato appunto con delicatezza per cercare di capire effettivamente se è una cosa che va a vantaggio di tutti i cittadini se poi ci sarà invece qualche consumatore insomma alla fine ci rimetterà perché mi sembra che l'Ulse e il Lonely nazionalizzato sia stato esperito forse in Australia e in Nuova Zelanda e stanno tornando indietro credo che il successo sia in Repubblica Ceca ma può poco il che non significa che io ho un pregiudizio anzi però infatti i miei colleghi lo sanno ho proposto un tavolo di approfondimento perché noi oggi dibattiamo proprio di questo emendamento del decreto fiscale che ne parla e secondo me ci vuole un approfondimento come tutte le cose le accelerazioni eccessive poi mi rendo conto che in realtà è solo diciamo un in qualche modo questo emendamento anticipo a un modello di regolazione più leggera che sarà previsto nel prossimo codice europeo che incentiva appunto l'aggregazione tra reti in questo caso team open fiber ma poi si vedrà insomma però andiamo a vedere e stiamo attenti per quanto concerne invece appunto quello che diceva Raffaele diciamo che è chiaro che uno dei vulnera fondamentali del 5g sarà proprio il problema dei dati la protezione dei dati la privacy so che prima avete avuto il segretario generale quindi me lo sono perso non vorrei ripetere ed essere ovviamente ridondante però è ovvio ed evidente che questo inciderà su tutti i settori della vita personale anche sanitaria per esempio perché ti raccolgono dati tu paghi con la carta di credito ed emerge subito che tu hai un problema fisico importante faccio per dire ma ovviamente investe la sfera familiare sociale economica politica verremo profilatissimi quindi siamo ovviamente anche esposti ad attacchi indiscriminati anonimi delle persone c'è un problema di cyber sicurezza non ve le so elencare perché siete tutti esperti e lo sapete però è evidente che tra i dossier più significativi di cui noi ci dovremo occupare come voglio dire legislatori sarà quello di trovare delle soluzioni in questo senso la sfida è quella di trasferire il corpo giuridico della protezione degli individui dalla realtà al virtuale che poi virtuale non è perché la realtà più concreta insomma ribadisco io mi sto già occupando perché a me piace fare le cose pratiche l'ho fatta la presidente del corcom trovando delle soluzioni per la tutela dei minori online salvando anche delle vite rimuovendo delle fatti specialisive che magari potevano potenzialmente portare ad alto estremo dei ragazzi cerco di farlo adesso che è per fortuna a livello nazionale e credo di trovare il conforto poi peraltro di tutti i miei colleghi posso fare qualcosa di più sicuramente sarà importantissima appunto la trasposizione del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche io sto mi sto già occupando della definizione intanto di una proposta di legge in questo senso che possa iniziare a dare delle risposte importanti non è semplice perché molte persone pensano che la regolamentazione della rete significhi una privazione di libertà che così non è secondo me anche questo va approfondito e gestito in maniera corretta io dico appunto diciamo l'italia in questo senso non ha una grande attenzione non ha una grande attenzione alla privacy facevo riferimento al discorso del gdpr io l'avevo seguito per due anni proprio da presidente del core con per tutte le declinazioni e appunto le problematiche legate alla tutela dei minori però quando mi sono trovata in parlamento il 24 di marzo con il gdpr che entrava in vigore il 25 maggio il decreto legislativo di attuativo non c'era ancora cioè di declinazione nella nostra ordinamento e quindi io mi sono messa a sgomitare ho detto ragazzi la posiamo lo vogliamo farlo passare alla speciale perché è un tema assolutamente di attualità che inerisce noi inerisce il privato inerisce le aziende penso che chiunque insomma abbia una piccola media impresa si sia reso conto delle problematiche legate al gdpr noi potevamo ecco in qualche modo alleggerire no perché il regolatore europeo in tanti modi in tanti campi in tante parti ci lasciava la possibilità di declinarlo nella nostra nel nostro ordinamento giuridico in modo più morbido ecco io mi sono sentita dire appunto è una cosa di nicchia non preoccupatevi quindi è ovvio ed evidente che la privacy non viene percepita come una preoccupazione reale invece credo che sia un nostro dovere preoccuparcene e chiudo perché se no vado per le lunghe però parlando con tutti gli operatori tra l'altro stanno venendo perché devo dire che la nostra insomma commissione grazie anche al presidente ma tutti sta lavorando molto bene quindi abbiamo delle degli interventi di tutte le realtà che si stanno occupando dell'implementazione della realizzazione del 5g quando si parla con gli operatori si dice ah no ma tutti mettono l'accento sul fatto che c'è la minimizzazione dei dati va bene ma questi dati vengono raccolti qualcuno li ha viaggiano sulla rete sappiamo che le reti insomma non sono perfette e sono molto vulnerabili ecco quindi sicuramente uno degli aspetti che inerisce maggiormente il nostro ruolo di istituzione è questo cioè sicuramente assicurare una protezione della privacy molto maggiore credo che su questo dovremmo collaborare molto grazie federica zanella grazie a tutti